we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear the dreaming of we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi anche oggi un sacco di novità riguardanti il futuro di fortnite tutti abbiamo e stiamo ovviamente partecipando all'evento le weeks bounty le sfide di john ragazzi con tanto di skin e premi belli belli sugosi in regalo in questa ltm che secondo me a parte una leggera difficoltà perché dai rendiamoci conto non è proprio facilissimo vincere è comunque super divertente non sta annoiando almeno a me personalmente non ha annoiato bella bellissima e ovviamente tutto il set di john tanta tanta roba ma nel video di oggi ragazzi parleremo innanzitutto della skin segreta quella per chi ha seguito il video di ieri che non sono riuscito a farvi vedere quindi ragazzi cercherò cioè vi farò sicuramente vedere oggi di che cosa si tratta perché le sorprese in questa modalità di john non sono finite parleremo anche ai 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 a dio veicoli ragazzi un nuovo tweet di epic games ci dice che in una particolare occasione verranno tolti i veicoli tutti i veicoli ma ne saprete di più nel video e ragazzi un bel po di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop grazie di cuore per iscrivervi al canale e soprattutto l'ho persa mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima voglio ragazzi farvi la domandina ve la devo ve la devo fare perché sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qui sotto e ragazzi dai la domandina è facile l'avete l'avete già capita ve la faccio ma l'avete già capita come ti sembra l'evento di john intanto questa è l'immagine ufficiale della della modalità della nuova ltm a te come sembra io ve l'avevo già anticipato all'inizio del video bello a me piace ragazzi ci sta sicuramente per tutti i fan del film john wick un'ottima occasione per portare anche il film in game penso che ci sia bilanciato bello anche il fatto che inizi con già le armi forse un po difficile ecco oggi siamo riusciti ieri siamo riusciti a vincere una partita ma i tre ragazzi che hanno giocato con me erano davvero fortissimi quindi non è davvero facile anche perché a un certo punto ti prendono tutti di mira se sei la squadra in testa fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti ma quindi e faccio un passo indietro per evitare ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a dare un'occhiata rapidamente al set completo di john alcune cose sono acquistabili questo tra l'altro ragazzi oltre alla skin 2000 vbucks lo sapete bellissimo il martellone io lo adoro uno dei miei picconi in assoluto preferiti a me piacciono tanto i picconi fatti a forma di oggetti veri e la skin che non è altro che una delle due skin perché la seconda che è molto più bella secondo me che è quella tutta nera viene regalata con la partecipazione a cinque partite della wix bounty ma forse non avete visto questo o magari si vi faccio vedere ragazzi il trailer ufficiale dell'evento questo è in giapponese vi metto anche l'audio di gioco è grande così 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 qua abbiamo già spoilerato a schifo raga abbiamo già a schifo perché vi stavo proprio dicendo ragazzi che a parte il bellissimo trailer molto intenso ecco qua un'altra cosa super interessante trovata nei file di gioco ragazzi è la nuova skin relativa a john wick ed è un po strano però ragazzi che non sia ancora arrivata a meno che non la rilaschino questa notte ma non lo so sinceramente non non saprei dirvelo questa skin ragazzi sappiamo però che si chiama sofia e avete sicuramente visto qualche secondo fa che ho spoilerazzato di brutto ragazzi quindi la vediamo con il nostro sito skin tracker la possiamo vedere in gioco il render in 3d ragazzi quindi skin esistente perché vi ho detto ragazzi che la skin è relativa a john wick perché alcuni si sono accorti di un particolare molto molto somigliante di questa skin ad un personaggio dell'ultimo film guardate bene ragazzi il vestito a parte che voi non lo vedete ma lì nello stiletto ha infilato un coltello stessa cosa che a john nella versione quella tutta sgarruppata in poche parole nella nella variante dove si è preso i colpi di proiettile guardate ragazzi questa è sofia il render l'avete appena visto molto molto simile ragazzi l'inserto dorato del vestito con questo personaggio che ha un nome si chiama heli berry il tweet che ci viene dato da un leakers dice questa skin di heli berry è stata presa dal film quindi potremmo aspettarci davvero l'arrivo di un nuovo personaggio a chiusura di questo bellissimo evento dedicato a john wick che sicuramente rimarrà sempre nei nostri ricordi ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua alle mie spalle il logo della world cup è successa una cosa nella settimana numero 5 quella che è appena passata alcuni player si sono lamentati per aver avuto gravi problemi nell'uscita dai veicoli durante la world cup il che ha compromesso seriamente le loro qualificazioni per l'evento della domenica quindi la finale vera e propria arriva quindi un tweet ufficiale di epic games che dice a causa di un problema che molti player hanno avuto riguardanti l'uscita del veicolo in questa settimana quindi in quella che adesso la settimana 6 quart'ultima possibilità per qualificarsi i veicoli verranno completamente disabilitati nell'evento della world cup quindi ragazzi se doveste se avete avuto delle difficoltà saranno sicuramente risolte e attenzione strutturate bene il vostro gioco perché non si potrà più camperazzare di prepotenza nella girosfera ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro evento molto interessante che vale davvero la pena di essere menzionato sto parlando ragazzi dell'epic mega sale ed è una cosa ufficiale di epic games ragazzi nello store quello che sappiamo essere presente nella pre lobby quindi nella schermata per l'avvio di fortnite tutti i videogiochi che epic games e ragazzi sono tantissimi perché epic games ha acquistato un sacco di compagnie produttrici di videogiochi tutti i videogiochi avranno degli sconti del 75 per cento ragazzi fino al 13 giugno quindi abbiamo poco meno di un mese di tempo tenete sotto controllo lo shop se giocate ad altri videogiochi perché potreste davvero prenderne alcuni a prezzi irrisori vale davvero la pena menzionarlo perché quando si può risparmiare un po di cash perché no voglio chiudere però con l'ultimo argomento ragazzi questa l'avete riconosciuta senz'altro è la schermata di caricamento che ci è stata regalata al completamento di tutte le sfide della settimana numero 2 di questa season 9 e ovviamente all'occhio risaltano queste skin ancora non rilasciate ufficialmente voglio però farvele vedere lo stesso in game eccolo qua ragazzi header che è la versione maschile anche qua secondo me leggermente un post apocaliptico ragazzi c'ha il mascherone davanti tipo steampunk roba futuristica roba così e la sua parte femminile versa anche qua ragazzi qualche inserto rosso va un po a riprendere lo stile che abbiamo precedentemente visto ci aspettiamo davvero che se non nello shop di adesso entro i prossimi giorni arriveranno e saranno disponibili per essere acquistate e quindi giocate beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao ciao